La Dinamo Banco di Sardegna cala la Scalla Reale in campionato. In anella la quinta vittoria di fila e lo fa contro la Grissinbon Reggio Emilia. Il pensiero di Cocio Pasquini. Abbiamo fatto una grande partita contro la gran avversaria. Siamo stati bravi a girare il ritmo nel secondo tempo. Abbiamo fermato bene a Della Valle che ci aveva ammazzato nei primi due quarti. Abbiamo fatto una grandissima difesa e limitare loro era la cosa più importante perché dal punto di vista offensivo hanno tante armi, tante opzioni. Sono contento che siamo riusciti a trovare energia per fare una buona difesa anche questa sera e ribaltare anche la differenza canessa è importante. Non abbiamo concesso punti di riferimento, contrariamente a loro. Quindi questa è una prova di forza. Sì, è una prova di forza. Era importante giocare molto dentro e fuori perché se stai solo perimetrale, come è successo nei primi due quarti, poi ti stritolano loro. Quindi la cosa importante era coinvolgere i lunghi per riapprire fuori. L'abbiamo fatto bene. Sono molto contento. Il secondo tempo 48-30 è un gran segnale contro di loro. Cinque in doppia cifra, questo lo vogliamo sottolineare. È importante anche questo? Sì, è molto importante averci sempre la possibilità di avere protagonisti diversi e tenere tutti coinvolti per averci energia. Stasera abbiamo avuto tanto da dei giocatori che l'altro giorno ci ha dato un pochino di meno. Per cui va bene così. Sono molto soddisfatto.